Ehi ragazzi, ciao a tutti e rinché bentornati qua su Ark Survival Evolved Guardate un po' ragazzi, il giganotosauro è cresciuto, è diventato bello grande Ovviamente ci ha messo un bel po' di tempo per crescere E comunque raga, un'altra cosa che ho notato Ah, purtroppo l'imprinting non l'ho potuto portare avanti fino alla fine Perché praticamente ogni volta mi chiedevo una crocchetta diversa Mi ha chiesto poi una crocchetta con uovo di gallimino Caspita, si chiama quell'animale Comunque fatto sta che non avevo nessun uovo di quel genere E quindi l'imprinting si è fermato purtroppo al 53% E dico che, perché purtroppo? Perché alla fine non ci avevo mai fatto caso Ma l'imprinting effettivamente serviva a qualcosa Ma non l'avevo capito ancora a cosa E praticamente guardate un po' la salute 25.000 Cioè man mano che alziamo l'imprinting Si guadagna qualche bonus E addirittura ho letto che Se l'animale viene cavalcato da colui che gli ha fatto alzare l'imprinting L'animale per quel momento che è cavalcato guadagna altre Altre statistiche Dobbiamo far nascere come si chiama La viverna de fuoco E chiaramente mo' mi dispiace se non gli faccio l'imprinting Mi dispiace veramente E si tratta di tante statistiche buttate Allora vediamo un po' 93 e 25 Vediamo se cambia qualcosa cavalcando 25, 93, no No, forse ci vuole l'imprinting più alto Per vedere qualche differenza Comunque vi avevo chiesto i nomi raga Eh, mi ne è piaciuto uno in particolare Per quanto riguarda il Giga Ma hai detto Chiamalo Indomi Come caspita è Indominus Rex Come quello che c'è su Jurassic World Esatto Impostazioni Mannaggia Mentre il Raptor Sempre comunque dallo stesso commento Mi piace perché così è un nome per tutti Anche se ora non ricordo Se avevo già dato i nomi agli altri Raptor Comunque mi avete suggerito di chiamare il Raptor Charlie, Blue, Echo e Delta Sempre come quelli di Jurassic World È una bella idea È proprio una bella idea Così un nome per tutti Dipende Questo è il Rappino Questo non ha un nome Ma quanti ne ho il Raptor? Non è che ne manca uno, vero? Ma penso di no Vabbè, comunque Allora Opzioni Cambia nome Allora tu ti chiami Echo Ok Ci abbiamo Echo Manca Delta Qua ce n'è uno Opzioni Nome Eeeh Ti chiami Delta Poi 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 Niente Quello si chiama Rappino E non mi va di cambiare il nome Ah lì ce n'è un altro Allora Charlie Te ne puoi tornare a passeggiare E me manca Blue E forse che l'ho visto un Raptor che non ha nome Eccolo qua A posto raga E così ci abbiamo la squadra Dei Raptor Ora Echo Te ne puoi tornare Te ne puoi andare a vagabondare Quindi ci abbiamo la squadra La squadra di Jurassic World E in più abbiamo anche Raga Rappino Quindi in tutto abbiamo 5 Raptor Allora Quindi Abbiamo risolto questi 2-3 problemi Che se fa E dobbiamo raga A me sa tanto Trovare un Caspita di Di femmina Di Di Come si chiama Dobbiamo provare a prendere il latte di viverna Perché se no L'uovo che ci ho E' sprecato In piccola parte Vediamo un po' che cosa ci sta dentro Intanto stavo pensando a quello che mi avete detto E cioè Nick guarda che Praticamente Il corno che ti serve Per addomesticare Ehm Come si chiama L'amantide Ehm Te lo dà un certo Insomma Mi avevi detto che è un animale Veramente tosto Però stavo pensando Che può essere che a casa Sti corni Ce li ho Perché capita Di trovarli nei portali Solo che non ci ho pensato Nell'ultimo gameplay Era meglio Se andavo a casa a guardare Metti che ce l'ho E mi risparmiavo Mi risparmiavo insomma Di perdere un'amantide Di livello 140 Insomma Allora Che è sto progetto qua Guarda quanta roba che c'è sta Ok Aspetta un po' che Vediamo Cos'è questo Uh cavolo Il fucile 277% di danno Io ancora No Io ce l'ho a 200 Ho trovato un fucile più buono Però ovviamente da craftare Ho trovato il progetto Ok Quindi Il problema qual è Il problema è attirare Una viverna Femmina Oh raga Ma Lo dico io Non c'è manco una viverna È normale Quando vai a caccia di uova È pieno di viverne Sì potrei anche Dare un'occhiata alle uova Ma che me ne frega C'ho già tutto Cosa me ne faccio Di altre viverne Gli devo solo dare da mangiare Non me ne frega niente A me interessa Il latte di viverna Ma non c'è manco una viverna Ma come è possibile Non c'è sta Manco una viverna Cioè sento freddo Vicino alla lava Sì ma è assurdo raga Non c'è manco una viverna Vediamo se ci stanno le Eh le uova ci stanno Sai cosa c'ho più? C'ho paura che queste appaiono all'improvviso Ho una paura matta Che queste appaiono all'improvviso Sì Sicuro eh Ma a finire che appaiono All'improvviso Te ne becchi 4 o 5 Qua ci stanno le altre uova Oggi non c'è manco una viverna E anche una Boh Le uova No veramente raga Ma non me ne frega niente Di prendere altre uova C'ho già tutto Eh sì raga Proprio questi ci vogliono Per la mantide Peccato 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 Perché Se lo sapevo prima Non ammazzavo Quella bella mantide Di livello 145 Comunque appunto Fatto stare Che ci vogliono questi Allora però Però mi serve A quanto ho letto Nella guida Anche un'altra cosa Questo Repellente È importante Perché se no Appunto la mantide Mi attacca Perché va Domesticata In modo passivo Cioè gli devo Da da mangiare Mentre lei cammina Ed è molto pericoloso Quindi Ci vuole Vabbè il narcotico Ce l'ho Mi serve Limo nedro E sassarrota Sassarrota Ovviamente Non è un problema I limoni Non è un problema Ce li ho In abbondanza Quindi Facciamo un po' Di repellente E andiamo a cercare Un'altra mantide Nella guida Eh Ho letto Che Aspetta Nella guida Ho letto Che conviene Fare una trappola Molto Molto Piccola Però Il problema È Vai a Faccentro Con la Vai a Faccentro Con la Viverna Per mettere La mantide Dentro Una trappola Piccola Piccola Una cosa Quanto Complicatissima Beh Comunque Allora Allora Ne creiamo Tre Tanto Dovrebbe durare Dici minuti Uno Quindi Quindi Sì Però Vanno messi Nel frigo Perché A quanto Ho capito Vanno a male Vabbè Dici ore Durano Oh Lì ce n'è Una di livello 130 Quasi Quasi Ragazzi Pichiamo Quella di livello 130 Che Mesa Tanto Che De Meglio Non Si Trova Allora Vediamo Un po' Prima che Sbaglio E poi Mi porta a casa Quella Scarsa Ok Allora Ho presa 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 Livello 130 Ok Raga Guardate Il vulcano C'è un po' Di calore Dico Guardate Quanto è Bello Il vulcano Raga Senza Passare Troppo Vicino Che Fa Caldo Ok Ci sta In animali Cattivi Qua Penso Di No Ok Allora Cos'è Sto Cos'è Un tronco Volante Quindi Assumiamo Sta Sostanza Ok Ragazzi C'è Il repellente Addosso C'ho Una Paura Ai 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 mi ha dato una botta e come faccio Aia In realtà non m'ha visto è che però c'è qualche altro problema Cavolo c'ero quasi c'ero quasi era apparsa il messaggio dagli da mangiare Ok ma aspettiamo un attimo che sta calma Dite che esce Pare di no Ok l'ho chiuso in un quadratino però non è che me cambia molto Ok Dani Sì ma se non ti dai una calmata bella del zio Come caspita famo non si calma Provo a pigliare un'altra volta il repellente raga Eh però se non si dà una calmata io non gli posso dare da mangiare Niente Oh raga io a sto punto non lo so la tiro fuori da qua e E prova a dargli il cibo in qualche altro modo va ma che ne so In caso se no la faccio fuori e tanti saluti alla mantide Che comincio un po' a stancarmi a me sta storia eh Il cibo non glielo vuole non glielo dà non glielo dà non glielo dà Completamente raga il messaggio non appare Non appare il messaggio per dargli da mangiare Sì ok ciao Si è buttato a mare Si è buttato a mare Mo da lì non la recupero Che fa amore Beh comunque raga mi sa tanto che ci rinuncio Perché niente ci ho provato in tutti i modi Ma il cibo non ne prende Mo mi sa che sta pure da negà quindi Quindi amen Tanto mi ha scocciato Mi ha fatto scocciare E' una cosa incredibile Ci ho provato in tutti i modi E non pigliavo il cibo E non abbiamo risolto un bel niente Vabbè facciamo così va Giusto per non concludere il gameplay Che senza aver fatto un cavolo Ci facciamo un giro con L'Indominus Rex Almeno Almeno qualcosina la famo dai A me pare brutto concludere un gameplay In cui non abbiamo risolto niente Almeno facciamo Andare un po' Facciamo crescere D'esperienza St'animale E se becco Quel dannato coso Lo faccio a pezzi Se becco La mantide La faccio a pezzi Sgraziata Ma ha fatto fatica Tanto Gamma 4 Ah già sta a 4 Non si vede niente Lo stesso Dov'è la mantide Boh Ma sai che è annegata Sta bene Andiamo Io famo fa Due livelli a questo Boh arriva magari il giorno Bravo L'uovo di brontosauro Che è già finita la stamina St'animale Urla un po' Bravo 384 Il mio giganotosauro Anzi Indominus Rex E lì qua Bellezio E c'è grepo Saliamo di Saliamo di Danno Te fa sgobbare Così tanto E non ti dà manco La soddisfazione Questo che cacchio è Ma cos'è Ma non mi dico Che ho un piccolo Tirannosauro Ma sembra un tirannosauro Ah no E che so io Che so grosso Ho sbaglio Ma so Due tirannosauri piccoli O due tirannosauri Normali A me sembrano Un po' piccoli Boh Pensavo che erano Tirannosauri Non adulti Insomma Invece so io Che so grosso E mi confondo Facilmente Anch'io lo sauro Livello Oh cavolo Che Non mi dire Che Quello è Un tirannosauro Alpha Farlo Speriamo che Non ci schiattamo Eh signor Alpha Mi scusi Signor Alpha Oh non è che posso venire dietro a te Io mannaggia Oh cavolo Oh cavolo Me sono incastrato Guarda Non me caga Sei cieco Mazza Tirannosauro Tirannosauro Alpha Ho paura Che il giganotosauro Si incavola Ma penso di no Il danno Non è così elevato Oh zannamo Oh dai che schiatta Daglie che schiatta Daglie che schiatta Daglie che schiatta Daglie Mamma mia Ma che roba Raga Ma che roba Oh Oh ma da cacchio Mi stai spingendo Mi sta spingendo Giù per la montagna Non ci voglio credere E' annato E' annato Porca Ma stavo A me buttare giù Dalla montagna Sto disgraziato E se cadevo giù Veramente non ho guai Che poi si che Uh 21 livelli Ok Vabbè un po' di No Troppo poca stamina Troppo poca Ah io raga Butto danno Ah Ma che roba 21 livelli Raga 21 livelli Ho fatto Sicuramente Era un tirannosauro Alpha di livello basso E che se no Se no faceva più danne Durava di più Però comunque Essendo un alfa Ragaccia Ha fatto guadagnare Un botto di livelli E che sta roba Triceratopo Che me frega A me Triceratopo Pensavo che il tirannosauro Alpha mi dava Qualche ricompensa Particolare Ma di fatti Eh vabbè La carne pregiata Cavolo Me l'ha data Ne ho quasi mille Beh almeno Ragà Almeno Adolcifichiamo Questa Questo gameplay Lo rendiamo un po' più dolce Con questo Alpha qua Che non abbiamo mai visto Prima Oh Ci stanno un paio Di Dovrebbero essere Quattro Dov'è il quarto Non lo vedo Do sta il quarto Oppure funziona In gruppi di tre Non mi ricordo più Ah no Forse che era Gruppe di tre Vabbè Che cacchio volete Ma dai Non vi vergognate Allo sauri Siete di livello basso Andiamo Va Schiatta Dai Beh Questa era di livello Quello era di livello Buono 130 Oh Yeah Livello Guarda quanto cibo Butta un po' Che me ne faccio Guardate qua Ragà Ma spero tanto Che sa nuotare St'animale Ma si Che sa nuotare Ma che roba È incredibile Wow Si Veramente Sto per affogare Wow Mo' Riesca Di usciti Qua Una parola Ma chi me C'è porta A me Qua Ragà Scusi Scusi Mi sa Indicare La strada Di casa Ormai che Mi trovo Non ti buttarti Sotto Che io Non ti seguo Sì 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 Guarda Guarda Come è Schiattato Quello Ok Tu ti sei comportato Bene Cosa cavolo è Accidenti Qua Sì Ce l'ho Fatta Ok Ma quasi quasi Lo parcheggio Qua Vabbè Teoricamente doveva Crollare Il tetto Allora Diamo un'occhiata Livello 137 125% Di danno Raga Tantissima Vita E che cos'è Sta roba Qua Che luccica Boh Ok Raga Mamma mia Mamma mia Che faticaccia Con quella Dannata Mantide Voglio solo Un attimo Vedere Se è ancora Viva O seppure Non so se ha problemi Con l'acqua Era caduta Da queste parti No Credo Era caduta Da qua Ma mi sa Che non c'è più Mesa tanto Raga Che L'amantide Ha fatto Una brutta Fine No Lì E guarda Do sta E ancora Viva Boh Vabbè Raga E voi Se mi volete Da qualche suggerimento Perché io Sinceramente Le ho provate Tutte E non ce l'ho fatta Da domesticarla Quindi se avvivati Dammi qualche suggerimento Ok raga Il tempo vola Ed è stravolato Quindi penso proprio Che concludo qua Quanto meno Il giganotosauro Muore di livello Più alto Abbiamo anche visto Per la prima volta Un tirannosauro Alpha Quindi raga Mi raccomando Commentate Iscrivetevi Lasciate un bel mi piace E ci perché Che ho presto Ciao Alla prossima Raga Alla prossima Alla prossima